La promessa anticipazioni. Le ombre si allungano sui corridoi silenziosi del palazzo. I personaggi che abbiamo imparato a conoscere stanno per affrontare il momento più difficile della loro vita. E niente sarà più come prima. Un segreto nascosto per anni sta per essere svelato. E le conseguenze potrebbero essere devastanti. Sei pronto a scoprire la verità che cambierà per sempre la storia della promessa? Prima di continuare, se vorresti ricevere nuovi video in anteprima della promessa, scrivi sì nei commenti. Ricominciamo. Quello che stai per vedere è un intreccio di tradimenti, amori spezzati e verità sconvolgenti che porteranno ogni personaggio a fare i conti con il proprio passato e le proprie decisioni. Immagina di trovarti nelle grandi sale del palazzo della promessa, dove ogni stanza cela un mistero. I sussurri corrono veloci da una parete all'altra. E chiunque potrebbe essere coinvolto in questo intricato gioco di inganni. Tutti stanno aspettando quel momento. Il momento in cui la verità verrà finalmente rivelata. Ma cosa accadrà quando questo segreto verrà alla luce? Come reagiranno i protagonisti? E soprattutto, chi pagherà il prezzo più alto? Tra i protagonisti di questo drammatico scenario troviamo Alonso, un uomo che ha sempre cercato di proteggere la sua famiglia da ogni minaccia. Ma il suo mondo sta per crollare quando Curro, il giovane che ha cresciuto come fosse suo figlio, gli rivela un segreto che cambierà ogni cosa. Dopo anni di silenzio e bugie, la verità esplode come una bomba tra le mura del palazzo. Alonso è il vero padre di Curro. Questa scioccante rivelazione lascia tutti senza parole e stravolge gli equilibri familiari. Iana, che ha sempre creduto in una certa verità sulla sua famiglia, si trova ora di fronte a una realtà che mai avrebbe potuto immaginare. Ma cosa significa questa scoperta per i protagonisti de' La promessa? Per Alonso, rappresenta un duro colpo al cuore. Tutto quello che ha fatto finora, ogni decisione presa per proteggere la sua famiglia, si infrange contro il muro della verità. Curro, il ragazzo che ha sempre considerato come un figlio, è davvero suo figlio. E ora che questo segreto è stato svelato, le conseguenze potrebbero essere devastanti. Come reagirà la famiglia a questa notizia? E quali altre verità sono ancora nascoste nelle ombre del palazzo? Mentre Alonso e Curro si trovano a fare i conti con il loro passato, un altro drammatico confronto sta per avere luogo. Petra, una delle figure più enigmatiche del palazzo, si trova di fronte al conte di Ayala. Questo incontro inaspettato riporta alla luce vecchie ferite e risveglia emozioni che entrambi avevano cercato di seppellire. Ma ciò che più sconvolge è la rivelazione che emerge durante il loro confronto. Feliciano, il giovane che tutti conoscono come il figlio di Petra, potrebbe non essere chi pensano. Il segreto di Petra e del conte di Ayala scuote profondamente gli spettatori. E la domanda che tutti si pongono è, chi è davvero Feliciano? È possibile che il conte di Ayala abbia sempre saputo la verità e abbia scelto di tenerla nascosta? E ora che la verità è venuta a galla, cosa accadrà al legame tra Petra e Feliciano? La storia della promessa ci ha insegnato una cosa. Nessuno è davvero chi sembra, e ogni personaggio nasconde una parte di sé che può essere rivelata in qualsiasi momento. Mentre Petra e il conte di Ayala affrontano il loro passato e il loro futuro incerto, una nuova minaccia si fa strada tra le mura del palazzo. Pelaio, un personaggio astuto e senza scrupoli, ha un piano ben preciso. Con una pistola in mano, sta orchestrando un inganno che potrebbe mettere in pericolo non solo lui stesso, ma anche Catalina, una delle vittime inconsapevoli di questo gioco pericoloso. Pelaio sa bene che in questo palazzo la fiducia è una merce rara. Ogni mossa che fa è attentamente calcolata per ottenere il massimo vantaggio. Ma c'è un problema. Geronimo ha capito tutto. Ha percepito il pericolo in agguato. E ora sa che il vero nemico potrebbe non essere così lontano come pensava. In un momento di alta tensione, Geronimo decide di affrontare Pelaio, cercando di fermare la sua follia prima che sia troppo tardi. Proprio quando pensi che non ci siano più segreti da svelare, la promessa ti sorprende ancora una volta. Maria Fernandez, che ha sempre dimostrato di essere una donna forte e coraggiosa, si ritrova di fronte a una scoperta inaspettata. Nella soffitta del palazzo, nascosta tra vecchi oggetti e ricordi polverosi, trova una borsa piena di soldi. Ma questi soldi appartengono a Vera. E la domanda che sorge spontanea è Da dove provengono? Maria si trova a un bivio. Cosa fare con questa scoperta? Se decidesse di rivelare tutto, potrebbe mettere in pericolo la vita di Vera e anche la sua stessa. Ma se scegliesse di tacere, potrebbe compromettere la sua integrità e il suo legame con Salvador. La decisione non è facile. E ogni scelta ha conseguenze che potrebbero influenzare il futuro di tutti. Sei curioso di sapere cosa farà Maria? Prima di continuare a leggere, fermati un attimo e facci sapere la tua opinione. Lascia un commento qui sotto e raccontaci cosa pensi di questa svolta. Credi che Maria debba rivelare tutto o mantenere il segreto? Siamo curiosi di sapere la tua opinione. Man mano che ci avviciniamo al gran finale di questa stagione, è chiaro che niente sarà più come prima. I segreti che sono stati rivelati finora sono solo l'inizio. Ci sono ancora molte domande senza risposta e misteri che devono essere svelati. Cosa accadrà tra Petra e il conte di Ayala? Curro riuscirà a riappacificarsi con Yana ora che la verità su Alonso è venuta fuori? E Pelaio riuscirà a sfuggire alla giustizia? O pagherà per i suoi crimini? La promessa continua a sorprenderci, episodio dopo episodio, con colpi di scena che tengono gli spettatori incollati allo schermo. Ma la domanda più importante è chi sarà il prossimo a cadere vittima di questo gioco di bugie e tradimenti? Con così tanti segreti ancora nascosti è impossibile prevedere come finirà questa storia. Come abbiamo visto, ogni personaggio della promessa ha qualcosa da nascondere. Nessuno è completamente innocente e ogni azione ha una conseguenza. Mentre ci avviciniamo alla fine della stagione, è evidente che ci saranno altri colpi di scena in arrivo. Ma chi sarà il prossimo a rivelare il suo oscuro segreto? E chi, tra questi personaggi, riuscirà a sopravvivere al gioco crudele che è stato messo in moto? Non possiamo fare altro che aspettare e vedere come si evolveranno gli eventi. Ma una cosa è certa. Il finale di stagione sarà esplosivo. Ci saranno lacrime, rabbia e forse anche perdono. Ma soprattutto, ci sarà una verità che finalmente emergerà. Una verità che potrebbe distruggere tutto ciò che abbiamo imparato a conoscere fino ad ora. Se sei rimasto affascinato dalle vicende di La Promessa e vuoi essere sempre il primo a scoprire cosa accadrà, iscriviti al nostro canale. Ogni giorno pubblichiamo nuovi video con anticipazioni e colpi di scena che non puoi assolutamente perdere. Ti aspettiamo nel prossimo video per scoprire insieme come andrà a finire questa incredibile storia. Grazie a tutti.